Prima di partire per un viaggio internazionale, buona prassi controllare di essere in regola con le vaccinazioni previste dal programma nazionale a seconda della meta e del tipo di viaggio, del periodo di permanenza e delle condizioni di salute personali e inoltre consigliata l'effettuazione di vaccini contro patologie specifiche. Per saperne di più abbiamo consultato il direttore dell'unità operativa complessa di virologia e microbiologia dell'ospedale di Pescara, il professor Paolo Fazzi. Allora è naturale che bisogna avere un minimo di conoscenza della situazione epidemiologica di varie patologie non presenti in Italia e magari ci sono qui anche nelle ASRA, anche nella ASRA di Pescara, ci sono proprio dei colleghi che preposti proprio a dare questo tipo di informazione e quindi anche consigliare eventuali vaccini laddove bisogna appunto eseguirli oppure dei richiami di alcuni vaccini fatti in precedenza. Bisogna appunto fidarsi soprattutto dei colleghi esperti, igienisti di queste problematiche oppure medici infettivologi o comunque anche noi della microbiologia, insomma gente che diciamo proprio è addetta ai lavori per quanto riguarda le malattie infettive in particolare anche e soprattutto quelle tropicali che solitamente noi non osserviamo se non come diciamo casi di ritorno appunto da una vacanza. Una cosa importante perché poi la più frequente tra queste patologie è la cosetta diarrea del viaggiatore quindi avere informazioni circa il buon uso dell'acqua e degli alimenti perché è praticamente la manifestazione più frequente quando si va in pratica in zone dove alcune patologie gastrointestinali sono praticamente endemiche. Ma visto e considerato che ormai è passato un anno dall'emergenza monkeypox vi ricordate era aprile maggio del 2022 ci fu questa epidemia importante in diverse zone del mondo anche in Europa, in Italia ci sono stati dei casi, erano praticamente casi di importazione e se ricordo bene in Italia ci furono quasi mille casi conclamati, prevalentemente erano maschi solamente se ricordo bene 14 erano soggetti di sesso femminile. Ora l'OMS proprio a maggio del 2023 ha dichiarato ufficialmente che questa emergenza monkeypox è terminata però bisogna comunque stare ancora attenti perché in alcune regioni dell'Africa monkeypox è endemico e quindi bisogna quantomeno vaccinarsi per questi poxvirus esistono dei vaccini che è proprio probabilmente l'uso di questa pratica vaccinale ha in pratica ridotto la circolazione del virus in Europa. È importante vaccinarsi anche perché i soggetti che non hanno avuto il vaccino antivaiolo sono quelli praticamente sicuramente meno coperti perché è stato dimostrato che il vaccino antivaiolo protegge in maniera importante contro monkeypox ma dato che i soggetti che sono afflitti da monkeypox sono soggetti in età fertile, giovani e quindi che hanno attività sessuale e quindi giovani che non hanno sicuramente praticato il vaccino antivaiolo ecco se dovessero appartenere a categorie diciamo cosiddette a rischio per quanto riguarda monkeypox io consiglio di appunto praticare il vaccino anti monkeypox se già non lo avessero fatto.